Quasi 400.000 vaccinazioni sono state effettuate nel Lazio ai cittadini e al personale sanitario. Sono gli ultimi numeri mensili delle campagne per prevenire l'influenza e il Covid-19, rispettivamente oltre 383.000 e circa 11.000 dosi somministrate a partire dal 2 ottobre. Nella vaccinazione spicca la centralità dei medici di medicina generale, che hanno immunizzato 342.000 cittadini per prevenire l'influenza e almeno 4.000 persone per l'anti-Covid. Quest'ultima campagna ha vissuto varie fasi, partendo dai sanitari dal 2 ottobre e proseguendo con gli overottante le categorie fragili dal 16 ottobre. Da novembre si è entrati così nel vivo della terza fase della vaccinazione anti-Covid, aprendo le restanti fasce della popolazione e consigliandola prevalentemente ai familiari, e conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità. Essenziale anche il ruolo nevralgico dei pediatri di libera scelta nell'anti-influenzale, circa 22.000 vaccinazioni, insieme con le somministrazioni effettuate dalle aziende ospedaliere e sanitarie locali, da Ares 118, dai policlinici e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia per l'anti-influenzale, oltre 12.000 dosi, sia per l'anti-Covid, più di 6.700 dosi. La prenotazione online può avvenire attraverso i punti di somministrazione vaccinale delle strutture sanitarie, con la piattaforma della Regione Lazio, oppure al numero di telefono 06 164 161 841.